E mi sembra che il cinema della Vermeule sia sempre uno sforzo di possedere completamente qualcosa, che siano luoghi o immagini o persone, un arrembaggio che vuole impadronirsi di tutto per poi restituirlo pagando con l'altissimo interesse dell'arte. E credo che il personaggio di Lina sia una persona, una lei stessa, che comunica direttamente quanto di sé le pare. Può essere brutale e sedutrice, può anche ingannare, ma sempre non so come, sinceramente. Forse perché il suo massimo desiderio è esprimersi, che vuol dire amare. Lina non è una regista autobiografica, ma in tutte le sue opere trasforma in nitide immagini la sua grande e preziosa voglia di vivere. Aggiungo che ho avuto con lei ultimamente un'esperienza teatrale indimenticabile «Lasciami andare madre», evocante la Shoah, dove la presenza sua e di Enrico hanno portato Milena Vukotic e me a mischiare comico e tragico, grottesco e profondo impegno morale. Grazie. Grazie. Grazie.